quindi detto questo direi di non attendere oltre e di iniziare quindi buon ascolto ho percorso alla luce della luna sentieri di cui altri temono di parlare durante il giorno ho parlato a dei amato donne e scritto canzoni che fanno commuovere i menestrelli potreste aver sentito parlare di me la pietra miliare una locanda come tante nascosta in un incredibile segreto l'uomo che la gestisce Cote non è davvero il mito individuo che i suoi avventori conoscono però per non spoilerarvi altro non lo leggiamo bentornata Luna questo è Patrick Rothfuss a barba ci siamo quasi più o meno lui ha molta più barba di me è del 73 come al solito tutti i romanzieri sono tutti quelli che vengono sempre rifiutati da diversi editori sempre cioè non ce n'è uno che non di quelli che poi sono diventati romanzi seri cioè romanzi conosciuti che non abbiano avuto almeno una ventina di rifiuti da farsi da diversi editori con le croniche dell'assassino del re quindi che il nome del vento è il primo romanzo no non l'ho mai detto sembra di sì corsaiolo il segreto dei romanzi sembra la barba effettivamente barba e capelli Luna e dai povero corsa quindi il nome del vento fa parte delle croniche dell'assassino del re ho capito vabbè mia madre mia sorella mio zio zio i miei cugini parenti compari nipote allora giustamente è suddivisa la mappa mi dispiace un po' perché effettivamente c'è la confederazione confederazione dove c'è l'accademia l'imertarbin l'anilen l'alien sono tutte città che fanno parte della storia e poi scopriremo tutto il resto vabbè lasciamo perdere iniziamo prologo un silenzio in tre parti era di nuovo notte la locanda della pietra miliare era in silenzio si trattava di un silenzio in tre parti la parte più ovvia era una quiete vuota riecheggiante formata da cose che mancavano se ci fosse stato del vento avrebbe spirato attraverso gli alberi fatto scricchiolare l'insegna della locanda con i suoi cardeni è spazzato via il silenzio lungo la strada come vorticanti fogli autunnali se ci fosse stata una folla o anche solo un gruppetto di avventori questi l'avrebbero riempito con conversazioni risa il fracasso e gli schiamazzi che ci si riaspetta da una taverna nelle buie ore notturne se ci fosse stata musica ma no ovviamente non c'era alcuna musica in realtà non c'era nulla di tutto ciò perciò rimaneva il silenzio all'interno della pietra miliare alcuni uomini erano radunati a un angolo del bancone bevevano con calma determinazione evitando serie discussioni di notizie preoccupanti nel fare ciò essi aggiungevano un piccolo cupo silenzio a quello vuoto più grande formava una sorta di lega un contrapunto il terzo silenzio non era facile da notare se fosse rimasto in ascolto per un'ora avreste potuto cominciare a sentirlo nel pavimento di legno sotto i piedi e nei ruvidi barili scheggiati dietro il bancone era nel peso del focolare di pietra nera che tratteneva il calore di un fuoco spento da molto era nel lento andiriviene di un bianco panno di lino che sfregava le venature del bancone ed era nelle mani dell'uomo che se ne stava lì in piedi a pulire un tratto di mogano che già risplendeva la luce delle lampade l'uomo aveva capelli di color rosso vivo come fiamma i suoi occhi erano oscuri e distanti e lui si muoveva con la sottile certezza che proviene dal conoscere molte cose la pietra miliare era sua proprio come il terzo silenzio era appropriato dato che fra i tre era il silenzio più grande che avvolgeva gli altri dentro di sé era profondo e vasto come la fine dell'autunno era pesante come una grossa pietra levigata dal fiume era il paziente suono di fiori recisi di un uomo che sta aspettando di morire capitolo 1 un posto per i demoni era la notte di felling e la solita folla si era radunata alla pietra miliare cinque persone non erano proprio una folla ma era il massimo che la locanda avesse mai visto in quei giorni dati i tempi che correvano il vecchio cob stava rivestendo il suo ruolo di cantastoria e dispensatore di consigli gli uomini al bancone sosteggiavano le loro bevande e ascoltavano nella stanza sul retro un giovane locandiere se ne stava non visto dietro la porta ascoltando a rapito i dettagli di una storia piuttosto familiare quando si risvegliò Tarbolini il grande si trovò rinchiuso in un'altra torre cob fece una pausa d'effetto ma non era questo il peggio vedete perché le lampade sulla parete bruciavano di una luce blu Graham Jake e Shepp annuirono fra loro i tre amici erano cresciuti insieme ascoltando le storie di Cobb e ignorando i suoi consigli Cobb scrutò da vicino il più giovane e attento membro del suo piccolo pubblico l'apprendista del fabbro sai cosa significava ragazzo tutti chiamano l'apprendista del fabbro ragazzo nonostante fosse di una spanna più alto di chiunque altro lì come accadde nelle piccole cittadine probabilmente sarebbe rimasto il ragazzo finché non si fosse fatto crescere una folta barba o avesse rotto il naso a qualcuno per questa faccenda lui annui lentamente incendaria esatto disse Cobb in approvazione tutti sanno che il fuoco blu è uno dei loro segni ora egli stava ma come l'avevano trovato lo interruppe il ragazzo e perché non l'avevano ucciso quando ne avevano avuto la possibilità silenzio ora avrei tutte le risposte prima della fine ops ho sbagliato silenzio ora avrei tutte le risposte prima della fine disse Jake lascialo raccontare e se o mi capita ogni tanto non c'è bisogno Jake disse Graham il ragazzo è soltanto curioso bevi la tua birra ho già bevuto la mia birra brontolò Jake me ne occorrerebbe un'altra ma il locandiere sta ancora squagliando ratti nella stanza sul retro alzò la voce e sbattì il boccale vuolo su bancone di Mocano ehi c'è gente che qui ha sete il locandiere apparve con cinque scodelle di stofato e due calde pagnotte rotonde spilò altra birra per Jake shape e il vecchio cob muovendosi con aria affaccendata la storia venne messa da parte mentre gli uomini erano intenti a cenare il vecchio cob bob sbafò la sua scodella di stofato con l'efficienza da predatore tipica di uno scapolo di lunga data gli altri stavano ancora soffiando sulle loro scodelle quando egli finì l'ultimo pezzo di pagnotta e tornò alla sua storia ora Tarvolin doveva fuggire ma quando li si guardò intorno vide che la sua cella non aveva nessuna porta nessuna finestra tutto intorno a lui non c'era altro che pietra liscia e dura ma Tarvolin il grande conosceva i nomi di tutte le cose e dunque poteva comandarle egli disse alla pietra rompiti e la pietra si rompe la parete si strappò come un pezzo di carta e attraverso quel foro Tarvolin poteva vedere il cielo e respirare la dolce aria primaverile si accostò al bordo guardò giù e senza pensarci due volte fece un passo nel vuoto il ragazzo strabuzzò gli occhi impossibile cobbano i con fare serio così Tarvolin cadde ma egli non disperò poiché conosceva il nome del vento e il vento gli obbiedì lo cullò e lo accarezzò lo portò a terra gentilmente come uno sbuffo di semi di soffione e lo poggiò in piedi con la delicatezza del bacio di una madre e quando ebbe toccato terra e tastato il fianco dove l'avevano accoltellato vede che era meno di un graffio ora forse si era trattato solo di fortuna cob si diede dei colpetti sul lato del naso con l'aria di chi la s'allunga che faceva una cosa del genere o forse aveva qualcosa a che fare con l'amuleto che indossava sotto la camicia che amuleto chiese il ragazzo con impaziente masticando dello stufato il vecchio cob si piegò all'indietro con lo sgabello lieto di poter scendere nei dettagli alcuni giorni prima Tarbole aveva incontrato un ambulante sulla strada e anche se non aveva molto da mangiare lui aveva condiviso la sua cena col vecchio una cosa giusta e ragionevole disse Grammo in bassa voce al ragazzo lo sanno tutti un ambulante ripaga l'aiuto due volte no no brontologia chiedilo bene il consiglio di un ambulante paga due volte l'aiutante il locandiere parlò per la prima volta quella notte in realtà vi manca più della metà disse in piedi sulla porta dietro al bancone da ogni ambulante il debito è pagato solo una volta per comun mercato due per aiuto di cuore dato e ben tre volte se l'avrà insultato gli uomini al bancone sembravano quasi sorpresi di vedere Cote lì in piedi erano mesi che venivano a mangiare venivano a mangiare bere e raccontare storie di pietra miliare ogni filo in notte Cote non aveva mai partecipato alle conversazioni prima di allora non ci si sarebbe aspettato diversamente in realtà era nella cittadina da appena un anno più o meno era ancora uno straniero l'apprendista del fabbro aveva vissuto lì dall'età di undici anni e ancora lo chiamavano quel ragazzo di Rannish come se Rannish fosse un qualche paese straniero e non una cittadina a meno di trenta miglia di distanza solo qualcosa che ho sentito una volta disse Cote per riempire il silenzio ovviamente imbarazzato il vecchio Cobba nuì prima di schiarirsi la gola e lanciare nuovamente e lanciarsi nuovamente nella storia ora questo amuleto veniva un intero secchio di reali d'oro ma in considerazione della gentilezza di Tarvolin l'amuleto glielo vendette solo per un penne di ferro uno di rame e uno d'argento era nero come una notte d'inverno e freddo come il ghiaccio al tocco ma finché l'avesse portato al collo Tarvolin non avrebbe ricevuto alcun danno da creature malvagie come demoni o semini darei una bella scommetta per una cosa del genere coi tempi che corrono disse Sheep Cubo aveva bevuto di più e parlato meno di tutti nel corso della serata possibile Cala possibile va bene Luna tutti sapevano che era successo qualcosa di brutto nella sua fattoria all'ultimo Chandling notte ma dato che erano amici sapevano che non era il caso di incalzarlo per i dettagli non così presto nel corso della serata non così sobri come erano già chi non lo farebbe disse il vecchio Cobo saggiamente bevendo una lunga sorzata non sapevo che in Chandrian fossero demoni disse la ragazza avevo sentito non sono demoni disse Jacob con fermezza furono le prime sei persone che si rifiutarono di seguire la scelta del sentiero di Telu ed egli li condannò a vagare ma stai raccontando tu questa storia a Jacob Walker occhio che potrebbe arrivare Walker Texas Ranger chiese Cobo bruscamente perché se è così lascerò continuare a te i due uomini si fissarono per un lungo momento alla fine Jake distolse lo sguardo borbottando qualcosa che presumibilmente avrebbero potute essere delle scuse Cobo si voltò nuovamente verso il ragazzo questo è il misterio dei Chandrian da dove vengono dove vanno dove aver compiuto i loro atti sanguinari sono uomini che hanno venduto le proprie anime demoni spiriti nessuno lo sa cipali cipalà Cobo scoccò a Jake un'altra occhiata di profondo sdegno anche se ogni idiota dice di saperlo a questo punto la storia degenerò ancora di più in un battibecco sulla natura dei Chandrian sui segnali che avvertivano la gente accorta della loro presenza e se l'amuleto potesse proteggere Tarvoli dai banditi cani androfobi e da una caduta da cavallo l'atmosfera si stava scaldando quando la porta principale si aprì di colpo Jake gettò un'occhiata era ora che arrivassi Carter spiega a questi sciocchi la differenza fra un demone e un cane tutti sanno Jake si fermò a mezza frase e si precipitò verso la porta corpo di Dio cosa ti è successo Carter avanzò nella zona illuminata il volto pallido e macchiato di sangue stringeva il torace a una vecchia coperta da sella era avvolta attorno di una strana ingombrante forma che gli riempiva le braccia bentornata Luna al vederlo i suoi amici saltarono più dagli sgapelli e si precipitarono verso di lui sto bene disse avanzando lentamente nella sala comune i suoi occhi dardeggiavano selvaggiamente come un cavallo imbizzarrito sto bene sto bene lasciò cadere la coperta infagottata sul tavolo più vicino dove sbatté duramente contro il legno come se fosse piena di pietra lunghi tagli dritti si intersecavano sui suoi vestiti la sua camicia grigia pendeva a brandelli eccetto dove una cupa macchia di color rosso scuro gliel'aveva attaccata al corpo Graham tentò di farlo accomodare su una sedia madre di dio siediti carter cosa ti è successo siediti carter scosse la testa ostinatamente ve l'ho detto sto bene non sono ferito così gravemente quanti erano chiese Graham uno rispose carter ma non è come pensate maledizione maledizione te l'avevo detto carter il vecchio cob prorruppe con quella sorta di rabbia spaventata che solo parenti e buoni amici possono accumulare sono mesi che te lo dico non puoi andare in gira da solo neanche fino a band non è sicuro jake e l'ha uccisa circa due miglia fuori dalla città passato il ponte di pietra alla notizia seguì un momento serio silenzio l'apprendista del fabbro appoggiò una mano sulla spalla di carta in segno di solidarità dannazione è tremendo era anche docile come un agnello non cercava mai di mordere o scalciare quando lo portavi a ferrare il miglior cavallo in città dannazione sono esitò accidenti non so cosa dire si guardò intorno impotente ci fu un momento di imbarazzante silenzio jake e cobb si scambiarono uno sguardo utruce mentre gli altri sembravano un accorto di parole incerti su come consolare il loro amico il locandiere si mosse con prudenza nel silenzio le braccia occupate aggirò agilmente shep e cominciò a disporre alcuni oggetti su un tavolo vicino una bacinella d'acqua calda forbici bende alcune bottiglie di vetro ago e filo cobb infine riuscì a liberarsi di jake te l'avevo detto ripete aggirando il dito in direzione di carta di recente c'è in giro gente pronta a uccidere per un paio di soldi non parliamo di un cavallo con carretto cosa farai ora lo tirerei tu jake cercò di farlo tacere ma cobb lo spinse via gli sto dicendo la verità è un maledetto peccato pernelli ma non sarebbe mai successo se mi avesse ascoltato dall'inizio farà meglio mi avesse ascoltato e mi avesse ascoltato non si affortuna due volte con certa gente la bocca di carter si chiuse in una linea sottile allungò la mano e tirò il bordo della coperta insanguinata qualunque cosa ci fosse all'interno rotolò una volta su se stessa e rimase impigliata nella stoffa carter diede uno strattone più forte e ci fu un rumore come se un sacco di piatte pietre di fiume venissero rovesciate sul tavolo era un ragno grosso come la ruota di un carro nero come l'ardenzia l'apprendista del fabbro fece un balzo all'indietro e colpì un tavolo rovesciandolo e quasi cadendo a terra lui stesso il volto di cobb si fece livido Graham, Shepp e Jake emisero suoni impauriti incomprensibili arretrarono sollevando le mani davanti al volto carter fece un passo indietro quasi come un tic nervoso il silenzio riempì la sala come sudore freddo il locandiere si accigliò non possono essere arrivati già così a me ovest disse piano se non fosse stato per il silenzio è improbabile che qualcuno avrebbe potuto sentirlo ma lo udirono i loro occhi si distolzero dalla cosa sul tavolo per fissare in silenzio l'uomo dei capelli rossi Jake fu prima a ritrovare la voce tu lo sai che cos'è questo? gli occhi del locandiere erano distanti Scrael disse distrattamente credevo che le montagne Scrael interruppe Jake col pannerito di Dio Cote hai visto queste creature prima d'ora? Cosa? Il locandiere dai capelli rossi alzò lo sguardo bruscamente come se vi fosse ricordato improvvisamente dove si trovava no no ovviamente no notando di essere l'unico che si trovava nella distanza di un braccio dall'oscura cosa fece un misurato passo indietro solo qualcosa che ho sentito vi ricordate di quel mercante che è passato qui circa due cicli fa tutti annuirano il bastardo che ha cercato di farmi pagare dieci soldi per mezza libra di sale disse Cobb di riflesso ripetendo la lamentela per quella cosa per quella che forse era la centesima volta mi piacerebbe averne comprato un po' morbotò Jake Graham annuì in silenzio assenso era un lorido sceme disse con impeto Cobb sembrando trovare conforto in quelle parole ormai familiari potrei pagarne due di tempi di magra ma dieci è un furto non so se ci sono altri di quella strada disse Scepe Copo tutti gli occhi tornarono all'essere sul tavolo mi ha detto di aver sentito parlare vicino a Melcomb disse Cote velocemente osservando le facce di ognuno mentre studiavano la cosa sul tavolo pensavo che stesse solo cercando di far lievitare i suoi prezzi cos'altro ha detto chiese Carter il locandiere sembrò pensieroso per un momento poi si strinse nelle spalle non ho sentito l'intera storia rimasta in città solo per un paio d'ora non mi piacciono i ragni a chi non ha ragione in questo caso c'ha ragionissimo disse l'apprendista del fabbro rimaneva ancora dall'altra parte di un tavolo e circa quindici piedi di distanza copritelo non è un ragno bella citazione non ha occhi non ha neanche la bocca fece notare Carter come mangia come mangia chiese Sheep cupo il locandiere continuò a squadrare la cosa con fare curioso si fece più vicino e si piegò in avanti allungando la mano tutti si ritrassero ancora più lontano dal tavolo attento disse Carter a zampa affilate come coltelli più come rasoi precisò Cote le sue lunghe dita aspirarono il nero corpo senza forma dello scrail è liscio e duro come ceramica non stuzzicarlo disse l'apprendista del fabbro movendosi con attenzione il locandiere prese una delle lunghe zampe lisce e cercò di spezzarla con entrambe le mani come un bastone non ceramica si corresse la mise contro il bordo del tavolo e vi si appoggiò con tutto il suo peso si spezzò con un sonoro crack più come pietra alzò lo sguardo verso Carter come si è procurato queste tutte queste crepe indicò le sottili fratture che screpolavano la liscia superficie nera del corpo Nelly gli è caduta addosso disse Carter è balzato giù da un albero ha cominciato ad arrampicarsi addosso a lei tagliandola con le zampe si muoveva così veloce io non capivo nemmeno cosa stesse succedendo Carter finalmente affondò nella sedia spinto da Graham lei è rimasta aggrovigliata nelle bardature e gli è caduta addosso spezzandole alcune delle zampe poi quell'essere mi è venuto dietro mi è salita addosso zappettando dappertutto incrociò le braccia davanti al petto insanguinato e vero privi sono riuscito a scrollarmelo di dosso e l'ho calpestato il più forte possibile poi mi è assalito di nuovo esitò il volto cinereo il locandiero annuì a se stesso mentre continuava a punzecchiare la creatura niente sangue niente organi è soltanto grigio all'interno lo pungolò col dito come un fungo grande telu lasciali in pace e basta implorò l'apprendista del fabbro a volte i ragni hanno degli spasmi dopo che li hai uccisi ascoltate disse Cobb caustico i ragni non diventano grossi come i maiali voi sapete cos'è questo? si guardò intorno fissandoli negli occhi uno ad uno è un demone osservarono la cosa rotta oh andiamo esclamò Jake dissentendo più che altro per forza dell'abitudine non è come fece un gesto inarticolato non può semplicemente ognuno sapeva cosa stava pensando certamente esistevano demoni nel mondo ma erano come gli angeli di telo erano come eroi e re al loro posto era nelle storie il loro posto era lontano da lì Tarbolino il grande chiamava il fuoco e il fulmine per distruggere i demoni Telo li spezzava fra le proprie mani e li spediva ululanti dentro al vuoto inondabile innominabile i tuoi amici di infanzia non ne calpestavano a morte uno per la sua uno sulla strada per Ben Britt era ridicolo Cote si passò la mano fra i capelli rossi poi ruppe il silenzio c'è un solo modo per essere certi disse mettendosi una mano in tasca ferro o fuoco estrasse un borsellino di cuoio rigonfio è il nome di Dio è il nome di Dio puntualizzò Graham i demoni tremono tre cose ferro freddo fuoco puro è il sacro nome di Dio la bocca della gandiere si strinse in una linea dritta che non era proprio un'espressione di cipiglio naturalmente disse mentre ruotavo il borsellino sul tavolo poi cominciò a passare in rassegna il mucchio di monete pesanti talenti e sottili pezzi di argento yacht di rame mezzi penni incrinati e dab di ferro qualcuno ha uno scim? usa una drab disse Jake quello è buon ferro non voglio buon ferro disse il locandiere in un drab c'è troppo carbonio è quasi acciaio ha ragione disse l'apprendista del fabbro solo che non è non è carbonio si usa cocche per fare l'acciaio cocche e calce il locandiere annui con differenza al ragazzo tu te l'intendi giovane maestro è il tuo mestiere dopo tutto le sue lingue dita trovarono finalmente uno scimmo nella pila di monete lo mostrò ecco qua cosa farà? chiese Jake il vecchio il ferro uccide i demoni la voce di Cobb era incerta ma questo è già morto potrebbe non fare un bel niente c'è un unico modo per scoprirlo il locandiere incontrò lo sguardo di ognuno di loro brevemente come per valutarli poi si voltò verso il tavolo e protrese lo scimmo di ferro verso l'essere oscuro tutti si ritrassero più lontano ci fu un breve suono crepitante come un ciocco di pino che sfrigola in un caldo fuoco tutti si allarmarono poi si rilassarono quando la cosa nera rimase immobile Cobb e gli altri si scambiarono sorrisi esitanti come ragazzi spaventati da una storia di fantasmi e lo sorrisi si fecero amari quando la sala si riempì del pungente odore dolciastro di fiori in decomposizione e capelli bruciati il locandiere premette lo scim sul tavolo con un secco click beh disse sfregandosi le mani contro il gambiure immagino che questo sistemi la faccenda cosa facciamo ora ore più tardi il locandiere se ne stava sulla soglia della pietra migliare e lasciava che i suoi occhi si rilassassero nell'oscurità orme di luce delle lampade provenienti dall'interno della locanda si stendevano attraverso la strada sterrata e le porte della cucina dell'altro lato non era una strada larga o molto battuta non sembrava condurre da nessuna parte come accadeva come accade certe volte ad alcune strade il locandiere trasse un profondo respiro d'aria autunnale e si guardò intorno il reo chito come aspettando che accadesse qualcosa si faceva chiamare Cote aveva scelto il nome attentamente quando era giunto in quel posto aveva assunto un nuovo nome per molte ragioni normali e anche per alcune insolite non ultimo il fatto che i nomi per lui erano importanti alzò lo sguardo vide un migliaio di stelle luccicare nel profondo velluto di una notte senza luna conosceva tutte le loro storie e i loro nomi e gli erano familiari allo stesso modo in cui lo erano le sue mani abbassando lo sguardo Cote sospirò senza accorgersene e tornò dentro chiusa a chiave la porta e le persiane delle ampie finestre della locanda come per allontanarsi dalle stelle e tutti i loro diversi nomi spazzò il pavimento metodicamente passando in tutti gli angoli lavò i tavoli e il bancone muovendosi con paziente efficienza alla fine di un'ora di lavoro l'acqua del suo secchio era ancora abbastanza pulita perché una signora potesse lavarcisi le mani ciao vince buonasera bello buonasera ben arrivato infine tirò uno sgabello dietro al bancone e cominciò a lucidare il vasto assortimento di bottiglie che si anidava fra i due enormi balili non era lontanamente incisivo in questo compito come lo era stato con gli altri e presto divenne ovvio che lucidare era l'unica scusa per toccare e tenere in mano qualcosa canticchiò perfino un po' pur senza accorgersene e si sarebbe fermato se se ne fosse reso conto mentre faceva girare la bottiglia fra le sue lunghe mani aggraziate il movimento familiare distese alcune rughe di stanchezza dal suo volto facendolo sembrare più giovane certamente non ancora trentenne neanche lontanamente trentenne giovane giovane per un lacandiere giovane per un uomo con così tante rughe di stanchezza che gli ricavano il volto cote arrivò in cima alle scale e aprì la porta la sua stanza era austera quasi monacale c'era un cammino di pietra nera al centro della camera un paio di poltrone e una piccola scrivania l'unico altro mobiglio era uno stretto letto con un grande scrigno scuro ai suoi piedi nulla decorava le pareti o ricopriva il pavimento di legno dei passi risuonarono nel corridoio e un giovane entrò nella stanza portando una scodella di stufato fumante che odorava di pepe era scuro e attraente con un viso vivace e occhi scaltri sono settimane che non fai così tardi disse mentre gli passava la scodella devono esserci state storie interessanti stasera Resci Resci era un altro dei nomi del locandiere quasi un nomignolo al sentirlo uno degli angoli della bocca li si increspò in un sarcastico sorriso mentre affondava nell'ampia poltrone di fronte al fuoco dunque cosa ho imparato oggi basta oggi maestro ho imparato come mai i grandi amanti hanno una vista migliore dei grandi studiosi e come mai bast chiese cote il divertimento che le traspariva dalla sua voce bast chiuse la porta e tornò indietro per sedersi sulla seconda poltrona girandola per essere di fronte al suo insegnante e al fuoco si muoveva con una strana delicatezza e grazia quasi stesse per mettersi a danzare beh Resci tutti i libri interessanti si trovano al chiuso dove l'illuminazione è scarsa ma le belle ragazze tendono ad essere all'aperto alla luce del sole e pertanto più facili da studiare senza il rischio di danneggiarsi gli occhi il cote a noi ma uno studente eccezionalmente intelligente potrebbe portare un libro all'aperto migliorando così se stesso senza il timore di ridurre le sue preziosi facoltà visive ho pensato la stessa cosa Resci essendo come come ovvio uno studente eccezionalmente intelligente ovvio ma una volta ho trovato un posto al sole dove poter leggere è arrivata una bellissima fanciulla e mi ha impedito di fare alcunchè concluse Bust con un gesto plateale cote sospirò ho ragione a credere che tu non sia riuscito a leggere nulla di celum tintura oggi Bust riuscì ad assumere un'aria un po' colpevole guardando nel fuoco cote cercò di assumere un'espressione severa e fallì ah Bust spero che fosse bella come un tipido vento dell'ombra all'ombra sono un cattivo insegnante a dirti questo ma ne sono lieto non sono dell'umore giusto per una lunga tirata di lezioni in questo momento ci fu un momento di silenzio Carter è stato attaccato da uno scryling questa notte il facile sorriso di Bust si ruppe come una maschera incrinata lasciando il suo volto scioccato e pallido uno scryling fece per alzarsi in piedi come se volesse precipitarsi fuori dalla stanza poi assunse un cipiglio imbarazzato e si costrinse a tornare a sedere sulla poltrona come lo sai che ho trovato il suo corpo era ancora vivo Bust l'ha portato lui ce n'era uno solo non si è mai sentito di uno scryling disse Bust deciso e tu lo sei bene lo so concordò Cote ma il fatto rimane ce n'era solo uno e l'ha ucciso? chiese Bust non poteva trattarsi di uno scryling forse Bust era uno scryling l'ho visto Cote gli rivolse uno sguardo serio è stato fortunato questo è tutto e anche così è rimasto gravemente ferito 48 punti ho usato quasi tutto il mio filo Cote prese la sua scodella distufato se qualcuno dovesse far domande di loro che mio padre era una guardia di carovane e che mi ha insegnato come pulire e sottorare una ferita erano troppo scioccati per chiederlo stasera ma domani alcuni di loro potrebbero diventare curiosi e non voglio soffio sulla scodella sollevando una nuvola di vapore attorno al suo viso cosa hai fatto del corpo? io non ho fatto niente puntualizzò Cote sono soltanto un locandiere io questo genere di cose va ben oltre le mie competenze peresci non puoi semplicemente lasciare che se la cavino alla meno peggio da soli Cote sospirò l'hanno portato da sacerdote ha fatto tutte le cose giuste per tutti i motivi sbagliati basta aprire la bocca ma Cote continuò prima che potesse dire alcunché sì mi sono accertato che la buca fosse abbastanza profonda sì mi sono accertato che vi fosse legno di l'overe nel fuoco sì mi sono accertato che bruciasse forte e a lungo prima che lo seppellissero e sì mi sono accertato che nessuno ne tenesse un pezzo per ricordo aggrottò leggermente le sopracciglia non sono un idiota sai basta si rilassò visibilmente sistemandosi di nuovo nella poltrona so che non lo sei Reshi ma non mi fiderei della metà di questa gente piscina pisciare setta eh scusate ma non mi fiderei che metà di questa gente pisciasse sotto vento senza aiuto sembro pensieroso per un momento ancora non riesco a immaginare come mai ce ne fosse uno solo forse non morti nell'attraversare le montagne ipotizzò Cote tutti eccetto questo è possibile ammise Buster il luttante forse è stata quella tempesta di un paio di giorni fa rimarcò Cote roba da far ribaltare i carri come eravamo soliti dire nella compagnia tutto quel vento e quella pioggia potrebbero aver allontanato uno dal resto della torma ma verisco la tua prima idea Reshi disse Buster a disagio tre o quattro scrail passerebbero per questa città come come un coltello caldo attraverso il burro più come diversi coltelli caldi attraverso varie dozzine di contadini disse Buster seccamente queste persone non possono difendersi da sole scommetto che non ci sono sei spade in tutta quanta la cittadina non che le armi siano molto utilità con gli scrail ci fu un lungo momento di pensiero silenzioso dopo un momento Buster cominciò a diventare inquieto notizia Cote scosse il capo non sono arrivati fino alle notizie stasera Carter ha interrotto tutti mentre stavano ancora raccontando storie è già qualcosa suppongo torneranno domani sera avrò qualcosa da fare Cote infilò pigramente il cucchiaio nello stofato avrei dovuto comprare lo scrail da Carter mi ditò il denaro gli sarebbe servito per un cavallo nuovo e la gente sarebbe venuta da ogni parte per vederlo avremmo potuto fare qualche buon affare tanto per cambiare Buster gli rivolse uno sguardo atterrito e ammuturito Cote fece un gesto tranquillizzante con la mano che teneva il cucchiaio sto scherzando basta accenò un debole sorriso tuttavia sarebbe stato divertente no resci quasi certamente non sarebbe stato divertente disse Buster con enfasi e la gente sarebbe venuta da ogni parte per vederlo disse con tono gazzonatore come no ciao Safi buonasera bella ben arrivata l'affare sarebbe stato divertente chiarì Cote avere da fare sarebbe divertente conficcò di nuovo il cucchiaio nello stufato qualunque cosa sarebbe divertente rimasero seduti per un lungo momento Cote fissava ciliato la scodella di stufato fra le sue mani il suo sguardo era distante deve essere terribile per te qui Mast devi essere intontito dalla noia Buster scrollò le spalle ci sono ancora le giovani mogli in città e una manciata di figlie sorriso come un bambino tende a trovare da me il divertimento questa è una cosa buona Buster calò di nuovo il silenzio Cote prese un'altra cucchiaiata masticò ingoiò pensavano che fosse un demone sai Buster si strinse nelle spalle potrebbe anche essere Rishi probabilmente è meglio che la pensino così lo so li ho incoraggiati in effetto in effetti ma tu sai cosa significa incontro gli occhi di Buster gli affari del fabbro si impenderanno per il prossimo paio di giorni l'espressione di Buster divenne cautamente interdetta oh Cote a noi non ti biasimerei se decidessi di andartene Buster potresti essere in posti migliori di questo l'espressione di Buster era scioccata non potrei andarmi ne Rishi aprì e chiuso la bocca alcune volte senza parole chi altri mi insegnerebbe e Cote s'ogghignò per un momento il suo volto mostrò la sua vera età dietro quella affaticata e rughe e la placida espressione dallo candiere era a malapena più vecchio del suo compagno dai capelli scuri già chi fece un gesto col cucchiaio per indicare la porta vai a studiare allora o importuno alla figlia di qualcuno sono sicuro che hai cose migliori da fare che guardarmi mangiare veramente vattene demone disse Cote passando un termico dal marcato accento con la bocca ancora mezza piena di stufato te lo sentas a ea basta prodotto in una risata sbicottita e fece un gesto vagamente osceno con una mano ogni riferimento è puramente casuale Cote inghiottì e cambiò lingua arnite denna leian oh su via non rimproverò basta il suo sorriso sparito questo è proprio offensivo per la terra e la pietra io ti abbiuro Cote intinse le dita nella coppa che aveva accanto e scagliò distrattamente le goccioline in direzione di Bust che la stregoneria sia bandita col sidro Bust riuscì a sembrare divertita irritato allo stesso tempo mentre si detergeva una goccia di liquido dal davanti alla camicia sarà meglio che non si macchi Cote prese un altro boccone dalla sua cena mettila a mollo se la situazione diventa disperata ti consiglio di avvalerti delle numerose formule di solventi che si trovano in cellul tinture capitolo tredici credo d'accordo Bust si alzò in piedi si diresse verso la porta camminando con la sua strana disinvolta garazia chiama se hai bisogno di qualcosa si chiuse la porta alle spalle Cote mangiò lentamente spazzolando lo stufato fino in fondo con un pezzo di pane guardò fuori dalla finestra mentre mangiavo almeno ci provò dato che la luce della lampada la rendeva come uno specchio contro l'oscurità dietro di essa i suoi occhi vagarono senza posa nella stanza il cammino era fatto della stessa roccia nera di quello del piano di sotto stava al centro della stanza un piccolo gioiello di ingegneria in cui Cote andava piuttosto orgoglioso il letto era piccolo poco più grande di uno da campo e a toccarlo il materasso risultava quasi inesistente un acuto osservatore avrebbe notato qualcosa che il suo sguardo evitava allo stesso modo in cui si cerca di non incontrare lo sguardo di un ex amante a un ricevimento formale o di un vecchio nemico che siede dall'altro capo di una sala in una follata birreria a tarda notte Cote tentò di rilassarsi non ci riuscì si innervosì sospirò si rigirò nella poltrona e senza volerlo gli occhi li caddero sullo scrigno ai piedi del letto era fatto di roa un legno raro e pesante scuro come il carbone e liscio come il vetro lucidato apprezzato da profumieri alchimisti un pezzo della grandezza di un pollice poteva facilmente valere oro avere uno scrigno fatto interamente di esso andava oltre alla semplice stravaganza era sigillato tre volte c'era una serratura di ferro una serratura di rame e una serratura che non poteva essere vista quella notte il legno riempiva la stanza con l'aroma quasi impercettibile di agrumi e ferro temprato quando gli occhi di cote caddero sullo scrigno non se ne distolse velocemente non scivolarono di lato come a voler far finta che non fosse neanche lì ma con un'occhiata lunga un solo istante il suo volto riacquistò tutte le rughe che i semplici piaceri della giornata avevano lentamente spianato il conforto delle sue bottiglie e dei suoi libri venne cancellato in un secondo lasciando in fondo ai suoi occhi soltanto un senso di vuoto e dolore per un istante fiera nostalgia e rimpianto si diedero battaglia sul suo viso poi se ne andarono rimpiazzati dallo stanco volto di un locandiere un uomo che si faceva chiamare cote sospirò nuovamente senza accorgersene si alzò in piedi passò un bel po' prima che riuscisse a spostarsi verso il letto lasciandosi alle spalle lo scrigno una volta che si fu disteso passò un bel po' prima che riuscisse ad addormentarsi come cote aveva previsto tornarono alla pietra migliare la sera successiva per bere e cenare ci fu questo timido tentativo di raccontare storie ma si spense presto nessuno era dell'umore adatto perciò la sera era ancora giovane quando la discussione si spostò su argomenti di maggiore importanza rilugirarono sulle dicerie che erano aggiunte in città la maggior parte di queste preoccupanti il re penitente stava passando un periodo difficile con i ribelli di Rezavec questo causò qualche preoccupazione ma solo in maniera generica Rezavec si trovava molto lontano e anche Cobb che fra loro era quello che conosceva meglio il mondo avrebbe avuto difficoltà a trovarla su una mappa discussero delle guerre secondo il loro punto di vista Cobb predisse una terza imposta dopo il periodo del raccolto non ci furono contestazioni anche se a memoria di nessuno di loro si ricordava di un'annata con tre esazioni Jake Jake ipotizzò che il raccolto sarebbe stato sufficientemente buono cosicché la terza tassa non avrebbe mandato in rovina la maggior parte delle famiglie eccetto i Bentley che se la passavano male comunque e gli Orison i cui pecore continuavano a sparire e il pazzo Martin che quest'anno aveva piantato solo orzo ogni contadino che avesse solo metà cervello aveva piantato fagioli questa era l'unica cosa buona di tutto quel combattere i soldati mangiavano fagioli e i prezzi sarebbero stati alti dopo qualche altro bicchiere vennero espresse preoccupazioni ancora più profonde le strade erano piene di disertori e altri opportunisti rendendo rischiosi anche i viaggi brevi le strade erano sempre pericolose naturalmente allo stesso modo in cui l'inverno è sempre freddo ci si lamentava si prendevano le precauzioni del caso e si continuava a vivere la propria vita ma stavolta era differente nel corso degli ultimi due mesi le strade erano diventate così brutte che la gente aveva smesso di lamentarsi l'ultima carovana aveva due carri e quattro guardie il mercante aveva chiesto dieci penni per mezza libre di sale quindici per una barretta di zucchero non aveva pepe né cinamomo né cioccolato aveva sì un sacchettino di caffè ma per quello voleva due talenti d'argento all'inizio gli abitanti avevano riso dei suoi prezzi poi quando si era mostrato irrimovibile la gente aveva sputato e inveito contro di lui questo era accaduto due cicli prima 22 giorni da allora non c'era stato nessun altro commerciante serio sebbene fosse la stagione giusta perciò nonostante la terza imposta incombesse preoccupante della mente di ognuno la gente guardava nel borsellino e desiderava aver comprato un po' di qualcosa nel caso in cui la neve fosse caduta in anticipo nessuno parlò della notte precedente della cosa che aveva seppellito e bruciato altra gente ne stava parlando ovviamente la cittadina brullicava di pettegolezzi le ferite di carter assicuravano che le storie fossero prese abbastanza sul serio ma non poi così tanto veniva pronunciata la parola demone ma mista a sorrisi i semi nascosti dietro a mani sollevate soli sei amici avevano visto la creatura prima che venisse bruciata uno di loro era stato ferito e gli altri avevano bevuto anche il sacerdote l'aveva vista ma vedere demoni era il suo lavoro i demoni facevano bene ai suoi affari anche il locandiere l'aveva vista ma a quanto pareva ma non era di quelle parti non poteva conoscere la verità che era così evidente per chiunque fosse nato e cresciuto in quella piccola cittadina lì le storie venivano raccontate ma accadevano altrove lì non c'era posto per i demoni inoltre le cose andavano già abbastanza male senza che si cercassero guai Cobb e gli altri sapevano che non aveva senso parlarne provare a convincere la gente avrebbe fatto di loro dei semplici zimbelli come il folle Martin che da anni tentava di costruirsi un pozzo dentro casa tuttavia ognuno di loro aveva comprato un pezzo di ferro lavorato a freddo dal fabbro il più pesante che riuscissero a maneggiare e nessuno di loro disse cosa stava pensando si lamentavano che le strade erano pericolose e stavano peggiorando parlarono di mercanti e disertori e tasse e del fatto che non c'era abbastanza sale da tirarci avanti per l'inverno rammentarono che dieci anni prima nessuno avrebbe neanche pensato di chiudere a chiave le porte tantomeno sprangarle di notte la conversazione entrò poi in una fase calante e anche se nessuno di loro rivelò i propri pensieri la serata terminò su uno di un registro tetro molte serate terminavano in quel modo con i tempi che correvano cos'altro dirvi ragazzi se non grazie di cuore grazie di cuore per tutto grazie di cuore per esserci stati per aver iniziato questo romanzo in mia compagnia metto il segnalibro tanto che mi trovo